buongiorno amici eccoci di nuovo al nostro appuntamento con il colore come dicevamo nella puntata precedente abbiamo visto che in natura possiamo trovare dei materiali diversi che poi attraverso una lavorazione possono essere ridotti in polvere questi sono macinati in polvere finissima questo è un curry rosso poi abbiamo della curcuma e abbiamo del cacao vedete sono delle polverine proprio sottilissime che conoscete anche voi queste polverine sono dei pigmenti di origine vegetale appunto e anche con questi possiamo realizzare la tempera o un colore a tempera come abbiamo fatto con gli altri pigmenti minerali di origine minerale allora la preparazione del legante è come quella dell'altra volta adesso magari ve la faccio rivedere e poi andiamo a preparare i colori anche con queste sostanze di origine vegetale allora per la preparazione come prima cosa andiamo a separare il tuorlo dell'uovo separiamo il tuorlo dall'albume e poi cerchiamo anche con uno stecchino di eliminare la placenta per cui facciamo un forellino aiutate così è e fate uscire tutto il liquido del tuorlo così eliminiamo la placenta ok adesso aggiungiamo andiamo a prendere un pochino di aceto e un po' d'acqua aggiungiamo qualche goccia di aceto e un pochino d'acqua poi l'acqua la possiamo aggiungere anche dopo poco poco poi prendiamo un bel pennello e andiamo a mescolare bene il tutto pensate che ci sono dei dipinti preparati con questa tempera del 1400 che sono ancora in ottime condizioni quindi se andate in qualche museo potete trovare dei quadri di simone martini di quell'epoca fatti su tavola tempera su tavola allora mescoliamo bene in questo modo allora questo preparato così può essere utilizzato per miscelare vari colori e lo teniamo separato e mischiamo il pigmento con questo con questo legante separatamente in modo da poterlo usare in vari momenti questo si conserva potete anche tenerlo qualche giorno bene adesso che abbiamo preparato il nostro legante e abbiamo già preparato bene adesso andiamo a vedere anche come preparare il colore con questi pigmenti di origine vegetale allora prendiamo un cucchiaino una palettina mettiamo un po' del nostro pigmento sulla nostra tavolozza dopodiché possiamo aggiungere un po' del nostro legante vi consiglio sempre di non miscelare il legante con il pigmento in modo da avere poi la possibilità di miscelare con il con il legante pulito allora mischiamo poco per volta così amalgamiamo bene la polverina e vedete che il nostro legante si colora e otteniamo così una bella pasta morbida questo è un colore che potete usare per preparare le vostre ecco con i colori vegetali c'è una gamma di colori un pochino meno assortita di quelli di quelli minerali però comunque possiamo divertirci ugualmente anche con questi colori mettiamo un po' di questo curry guardate che colore eh questo è un curry misturato con della paprika prendiamo sempre con un pennello pulito mi raccomando prendete un po' di vostro legante lo mettete qua sulla tavolozza e poi andate pian pianino a miscelarlo con il vostro con la vostra polverina così ecco più la polverina è sottile più chiaramente il colore sarà bello intenso e coprente mettiamo ancora un po' così e prepariamo ancora un po' di pigmento prendiamo la curcuma guardate che bel colore giallo anche qui prendiamo un po' di legante e andiamo a miscelarlo con il nostro pigmento potete usare qualsiasi tipo di spezie mi raccomando fate attenzione a non usare magari dei peperoncini o il pepe che sono molto irritanti per cui cercate delle cose magari un po' meno irritanti o fate molta attenzione a non far volare la polverina in giro ok prendiamo ancora un po' di pigmento qua un po' di legante come vedete uso sempre un pennello pulito per prendere perché questo legante lo potete usare anche in giorni diversi con l'aceto che abbiamo messo si conserva anche qualche giorno ok proviamo a vedere come funziona prendiamo un foglio prendiamo un foglio e vediamo un po' guarda che spettacolo che bel giallo e vediamo un po' 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 vediamo un po' Grazie.